A Salerno si muore di più per infarto che per tumore. A dirlo è la classifica pubblicata oggi sul Sole 24 Ore, che mette in fila i capoluoghi italiani in base all'indice della salute calcolato, incrociando tra loro 12 criteri. La provincia di Salerno, che è undicesima per mortalità legata al tumore, è invece al 51esimo posto, quindi metà classifica, per mortalità legata all'infarto. La classifica dello star bene è in corona a Bolzano, sul podio per miglior livello di salute, insieme a Pescara e Nuoro. Di contro, Fanalini di coda con maglia nera, Rietri, Alessandria e Rovigo, penultima e terzultima. Salerno si piazza nella classifica finale al 78esimo posto, come media di tutti gli indici presi in considerazione, al 96esimo per tasso di mortalità. Non va bene la classifica neanche sul fronte del consumo dei farmaci. Salerno è 89esima per medicine utili all'asma, 82esima per diabete. Meglio invece se si considera la percentuale di medici in riferimento a mille abitanti, 62esimo posto per Salerno se si prendono in considerazione i medici di base, 47esima per i pediatri, 52esima per i geriatri. Infine, tra gli indici è anche quello che calcola la ricettività ospedaliera. Salerno si piazza al 57esimo posto, mentre 71esima per emigrazione ospedaliera.